Siamo al telefono col Presidente della provincia di Parma, Diego Rossi, per parlare di un'indagine dell'Unione delle Provincie Italiane, un CIR che ha messo Parma sopra la media nazionale su diverse misure per ciò che riguarda il BES. La prima domanda che poniamo al Presidente è che cos'è il BES? Sì, il BES è un insieme di indicatori sul benessere equo e sostenibile. È una forma di misurazione statistica che in realtà inizia a avere qualche anno, insomma siamo già alla settima edizione di queste pubblicazioni, di questi studi a cui aderiscono diverse province a livello nazionale, quasi un'ottantina di province, tra cui anche noi come provincia di Parma attraverso il nostro ufficio statistica e questi indicatori sostanzialmente consentono di evidenziare alcuni aspetti del benessere di un territorio che normalmente possono essere meno evidenti o meglio, meno evidenziati, meno raccolti dai classici parametri che sono quelli dei bilanci degli enti locali. Quali sono questi parametri? Qualche esempio? Beh, ad esempio sono quelli legati alla formazione, sono quelli legati all'innovazione, sono quelli legati anche ad esempio alla presenza degli investimenti sulle energie rinnovabili, sulla salute, su quali sono gli indicatori appunto di mobilità per la salute, per la sanità e quali sono appunto gli effetti della sanità pubblica sul territorio. Ho citato questi perché peraltro sono i punti di forza della nostra provincia. I punti di forza, quali i dati più importanti, quelli salienti e i valori, le misure più… Beh, guardate, c'è un dato che secondo me è molto importante ed è quello legato alla formazione, ed è quello legato alla formazione sia delle scuole superiori… Tra l'altro su questo dato parla un punteggio molto superiore alla media. Molto superiore, molto superiore. Credo che la qualità, ecco, del nostro sistema scolastico, la presenza ad esempio dell'università, di un'università importante che in questi anni ha avuto una serie di riconoscimenti di qualità, di certificazione, di valore anche a livello nazionale, che indubbiamente sono un elemento di forza. Sono un elemento di forza nell'immediato, nell'oggi, lo testimonia il fatto, ad esempio, che un altro indicatore su cui siamo particolarmente brillanti è quello dell'innovazione, che si misura attraverso quanti brevetti vengono registrati in un territorio, dalle imprese private, ma anche dal sistema della ricerca. E anche su questo fronte il nostro è un territorio che non solo si conferma, ma addirittura cresce da questo punto di vista. Vuol dire che qui ci sono imprese, imprenditori, anche artigiani, perché no? A volte anche piccole imprese, che sfruttando questa formazione, sfruttandola in positivo, cioè quindi avendo risorse, energie che guardano all'innovazione, consente al nostro sistema di stare, non solo di stare sul mercato, ma anche di crescere. Anche in anni come quello di questo, 2020, naturalmente, ovviamente con delle incognite imprevedibili, ma che hanno visto comunque, nonostante le difficoltà che si vedono anche sul nostro territorio, si misurano anche sul nostro territorio, una tenuta e io credo anche la presenza quindi di condizioni che possono costituire la base per una ripartenza innovativa, appunto, per una nuova ripartenza. E questo è veramente, credo, il nostro punto di forza. Ed ora, prima delle note d'orienti, dei punti di debolezza, 12 secondi contatti di pubblicità, poi sentiremo la risposta. www.moranoleggi.com Valfer, elettromeccanica, automazione e impianti elettrici. Presidente, rieccoci, adesso parliamo di quelle che sono le note d'orienti, i punti di debolezza. Certo, ma aggiungo solo velocemente un altro punto di forza, proprio perché l'anno che chiudiamo è un anno difficile dal punto di vista socio-sanitario. Ecco, un altro dei punti di forza della nostra provincia, del nostro territorio, è appunto la sanità. Per come è non solo percepita, ma anche utilizzata dai nostri cittadini, e non solo, anche per quelli che sono i numeri di attrazione da altri territori che vengono verso il nostro per questo tema della salute, del sistema in primis pubblico, ma non solo, e quindi un sistema che funziona. I punti di debolezza sono quelli legati a una scarsa presenza di fonti di energia rinnovabile. È uno degli elementi su cui siamo un po' più lontani anche dalla media nazionale, e su cui credo che invece, pensando proprio anche al patto per il lavoro e per il clima, che proprio lunedì è stato sottoscritto, dopo essere stato proposto, con la nostra regione, dalla regione Emilia-Romagna, con tutte le forze produttive, con il sistema istituzionale. Lavoro e clima sono un binomio, non più due termini in antagonismo, devono essere sempre di più legati, e questo passa attraverso sistemi anche di produzione di energia, in particolare per territori che sono energivori come il nostro, perché abbiamo tanti punti di produzione, tante aziende, quindi attenzione da questo punto di vista, è chiaro che noi siamo un tassello di un sistema addirittura globale da questo punto di vista, che è chiaro non possiamo risolvere o migliorare da soli, ma possiamo dare un contributo importante. A proposito di energie rinnovabili, su quali fonti di energie rinnovabili dovremmo puntare? Beh, energie rinnovabili sono ormai diciamo abbastanza consolidate, su alcune, l'eolico anche sul nostro territorio, in questi anni ha avuto qualche nuovo investimento, penso al crinale Ligure-Emiliano, nei comuni di Torno, nel comune di Albaretto, ma penso anche all'idroelettrico, che ha storicamente alcune presenze, ed è un ambito su cui si può ancora migliorare, così come sono cresciute anche piccole, perché lì credo che debbano essere piccole, almeno questo è il mio punto di vista, anche situazioni legate alle biomasse, legnose, è un tema importante, che giustamente in maniera equilibrata, dimensionato ai contesti territoriali, può dare soddisfazioni, lo abbiamo visto anche in piccoli comuni di montagna, penso a Monchio, a Valmozzola, dove sono state fatte cose egregie. A questo proposito si pone il problema delle fonti rinnovabili, come sappiamo le biomasse riducono le emissioni di energia carbonica, aumentano le emissioni di PM10, quindi come fare? In realtà, ripeto, per questo parlavo di dimensioni adeguate, giuste e corrette, perché la tecnologia che è migliorata, e sta continuamente migliorando anche da questo punto di vista, può dare grandi aiuti, ecco, dal punto di vista del contenimento emissivo, e dell'uso corretto delle risorse. Chiaramente per fonti come l'idroelettrico, si possono pensare a piccoli invasi, o comunque anche a derivazioni su condotte, come è stato fatto ad esempio dalla società pubblica, Montagna 2000, non realizzando degli invasi, ma sfruttando la caduta di una condotta importante, realizzare delle piccole centraline idroelettriche. Sono forme che, credo, vadano gemmate, devono essere replicate, per recuperare terreno in maniera significativa. Prima della diretta mi ha spiegato che queste indagini non è come quella del Sole 24 ore pubblicata nei giorni scorsi, non c'è una graduatoria delle prima, seconda, terza provincia a livello italiano, così come non c'è una graduatoria all'interno dei paesi della provincia. Ma a suo modo di vedere, a suo sentire, ci sono delle differenze tra i vari territori provinciali e in che modo la provincia potrebbe, diciamo, ricolmare questi gap? Ma come dicevo, infatti, prima, come ci dicevamo, nell'analizzare un po' questi dati, che sono peraltro pubblicati sul sito della provincia, quindi invito anche i cittadini a andarli a curiosare, perché fa parte di una cultura di conoscenza diffusa che credo possa essere utile anche alla cittadinanza, anzi, altrettanto utile quanto agli amministratori. In realtà, appunto, non è una classifica. Il dato provinciale è un dato aggregato. Noi sappiamo bene che ci sono situazioni molto diversificate per ogni ambito di territorio, anche in città, lungo l'autostrada, lungo la via Emilia. I dati sono più difficili per la situazione anche di contesto, di contesto geomorfologico, per come è fatta la pianura padana e la sua scarsa circolazione di aria e la concentrazione anche di attività produttive e di mobilità, nonché di riscaldamento, di più persone, eccetera. Quindi è chiaro che i dati di qualità ambientale sono evidentemente migliori nelle situazioni appenniniche rispetto alla situazione della bassa. Mentre su altri fattori, come può essere appunto la presenza dell'università in città, ci porta a dire che lì c'è una concentrazione di conoscenza che però è concentrata, ma giustamente il dato è aggregato, perché poi questi servizi sono fruibili per tutti i 450 mila abitanti della nostra provincia. Vale lo stesso per la sanità. Quindi il dato è... Peraltro per la scuola ci sono eccellenze anche nel territorio, come Formato, Volgotaro, Langhierano, San Secondo, insomma. Assolutamente, certo, certo. Ma anche lì, chiaramente non è il singolo comune, ma parliamo non a caso di scuole superiori che servono bacini di una decina di comuni ciascuno, a volte anche di più. Quindi per questo è correttamente giusto vedere un dato aggregato su area provinciale e qui mi permetto solo una battuta, non è un caso, credo, che gli indicatori socio-economici, anche quelli delle classifiche del Sole 24 Ore, ma anche quelli ufficiali dell'Istat, si misurino sulla dimensione provinciale. Evidentemente la provincia ha una sua, come dire, ha un suo senso logico anche appunto nelle dimensioni umane ed economiche. Quindi lei dice che anche il dato dell'ottavo posto per il Sole 24 Ore non è calcolato solo sul Parma Città, ma su tutta la provincia. Sì, sicuramente è un dato provinciale, è un dato di tutto il territorio. No, no, mi riferivo alla riforma delle province che ha impoverito e ridotto il ruolo dell'ente provinciale quando in realtà, ecco, in tutti questi casi vediamo che la dimensione territoriale delle province, questo vale non solo per Parma, ma in generale, è un'entità e una dimensione invece ancora importante e che quindi ha un senso e ci auguriamo che questo insomma possa essere preso in considerazione con maggiore coscienza anche da parte del legislatore. Noi la ringraziamo per la sua squisita disponibilità e alla prossima. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie, un saluto a tutti, grazie dell'attenzione, buon lavoro.